A Ponte Corvo i militari della locale stazione hanno messo in manette un tretto ottenne del luogo censito per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per inosservanza del diveto di non ritorno nel comune di Napoli dal 29 gennaio 2008 al 14 gennaio 2009 in esecuzione al provvedimento di incarcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Il provvedimento cautelare scaturisce a seguito di meticolose indagini sviluppate dagli operanti. In ordine all'autorizzazione in favore del pervenuto dell'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Frosinone ad allontanarsi dall'abitazione per espletare attività lavorativa nei comuni limitrofi, alle dipendenze di una locale ditta edile. I militari in effetti hanno accertato che di fatto l'uomo mai aveva completato la suddetta attività lavorativa in accordo con il responsabile della ditta, un 54enne di Aquino, il quale a sua volta veniva deferito in stato di libertà per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, avendo falsamente attestato l'assunzione del 38enne. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato veniva tradotto presso la casa circondariale di Cassino.